Ci troviamo esattamente in Piazza Volta dove è ritornato finalmente il defibrillatore che poco tempo fa, il giorno della Befana, era stato manomesso. Abbiamo qui con noi il nostro sindaco Andrea Sala. Buongiorno sindaco. Buongiorno a tutti. Allora esattamente cos'era successo il sindaco? L'immagine che tutti hanno visto era la manomissione e quindi il ribaltamento della colonnina del defibrillatore completamente ribaltato nelle uola. So che sono in corso delle indagini da parte delle istituzioni preposte, intanto che però si cerca di capire cosa è accaduto, la cosa importante è che tutto torni al suo posto perché in caso ovviamente di emergenza, meglio che non ci sia, però qualora accade, essere assolutamente pronti con le apparecchiature. Quindi io ringrazio sempre la Croce Rossa, ringrazio anche i Buccellerunner che voglio dire sono stati quelli che hanno proprio voluto fin dall'inizio questo punto molto importante per la città. Ecco abbiamo qua i volontari della Croce Rossa. Buonasera, buonasera. È stata una nostra priorità riuscire a ripristinare nel più breve tempo possibile questa importante attrezzatura. Infatti anche in una settimana siamo riusciti appunto a ripristinare sia la colonnina, fortunatamente il defibrillatore non era stato asportato, quindi siamo riusciti a riposizionarlo. E già da questa sera appunto sarà nuovamente operativo e proteggerà quest'area della città che comunque ha necessità di avere un'attrezzatura così importante. Grazie, grazie mille. Abbiamo la Presidente della Buccellerunner. Buonasera, buonasera a tutti. Ringraziamo la Croce Rossa per aver ripristinato così velocemente questa donazione frutto della collaborazione alla Red Buccellerunner. Grazie, grazie mille. Grazie. Grazie.